Uomini e donne anticipazioni, quando va in onda la scelta di Mattia Uomini e donne, Mattia e Vittoria finalmente insieme. Il trono di Mattia Marciano è stato un percorso intenso, denso di colpi di scena e stranamente breve rispetto ai soliti periodi di trono cui siamo stati abituati a uomini e donne. Riavvolgiamo il nastro e analizziamo il cammino di Mattia. . Dopo essere stato corteggiatore di Desiree e Popper, Mattia ha deciso di intraprendere una nuova tappa e salire sul trono in cerca del vero amore. . Da subito è rimasto colpito da Vittoria Deganello, veronese docche e amica di Andrea Damante e Giulia De Lellis. . Vittoria e Mattia si conoscevano già tramite i social, soprattutto su Instagram, ma i due hanno posto le basi della loro conoscenza come se fossero estranei come giusto che sia. . La loro intesa era già visibile sin dalle primissime battute. . Mattia ha sempre avuto occhi solo per lei, come spesso faceva notare una delle sue corteggiatrici, Nilu Faradati, tra laltro fresca di promozione atronista. . . Tra Vittoria e Mattia ci sono stati fasi di alti e bassi, momenti durante i quali i due hanno spesso messo in dubbio i loro sentimenti, ma ben consapevoli di cosa provava luno per laltra. . . La loro storia rischiò di subire un crollo quando furono accusati di essere già daccordo sulla scelta finale, pressione che specialmente Vittoria non sopportava più. . . La stessa ventitreenne pose una sorta di ultimatum a Mattia, chiedendogli se fosse pronto per lei ma lui, in quel momento, non se la sentì di rispondere. . Dopo una conseguente crisi, il tronista napoletano ha realizzato davvero chi volesse al suo fianco. . . Spiazzando tutti, è andato a casa di Vittoria, facendole capire che non avrebbe voluto stare un altro giorno senza di lei. . Vittoria e Mattia, ancora insieme dopo la scelta. . . Ovviamente questo epilogo è stato contestato sul web. . Mattia però ha difeso i suoi sentimenti ed ora si gode serenamente la sua vittoria. . . La puntata della scelta dovrebbe andare in onda la prossima settimana, tra lunedì e venerdì. . Nel frattempo, la coppia è ben salda e sono insieme, anche se, per rispetto delle redazione e del programma, non possono ancora farsi vedere pubblicamente. . .